Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e questo è GioGioCame a Roblox E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Luca, Filippo, Domi, Manu, Matteo e Lori Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione E vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi Esattamente, guardate in che ma passiamo ragazzi Praticamente è un parco giochi di parkour Ci sarà da divertirsi davvero tantissimo Ma prima di tutto ci siamo finalmente fatti l'estetica nel gioco Abbiamo speso qualche soldino, bisogna dirlo Vieni qua, vieni qua, vieni qua Aspetta, però va ora di cadere Ti fai vedere anche la mia, fai vedere anche la mia Sì, ma io sono più bello Guardate, sono diventato un pirata Mi manca di tutto una gamba e una mano C'è un sorriso smagliante Bellissimo Ovviamente delle spade per tagliuzzare Feriniki Perché quelle bisogna sempre averle Sei una persona terribile Io a proposito della skin devo dire una cosa importantissima Ok, ti sto guardandone mentre Ho preso una decisione Ho assunto un assistente consigliere di idee malvagie Ok, chi è? Only? Che è al tuo fianco La vedo lì alla tua sinistra C'è Only Revenge E lui? No? E questa è la mia spalla, non lo vedi? Ma quella specie di schifezza? Non ci devi provare Non ci devi provare Guarda che anche se tu lo vedi così carino e puccioso No, non è carino È carinissimo e pucciosissimo È molto malvagio È molto malvagio come vedi Oltretutto ha una certa elegante È molto sofisticato E ha anche un nome molto sofisticato Lo vuoi sapere? Mister schifezza Signor Maialino Wow È fantastico Lo adoro E l'ho assunto proprio per consigliarmi idee malvagie Infatti mi ha appena sussurrato nell'orecchio Che tu sei una persona schifosa e terribile Perché l'hai insultato Non è vero Quindi, allora Non lo devi insultare Perché se lo fai arrabbiare Può diventare molto cattivo Allora, guarda che sono un pirata E sono pericoloso In ogni caso Dai, iniziamo questa mappa Ci sono un po' di consolini Che sono venuti a farci compagnia Abbiamo Momi Abbiamo Only Revenge Abbiamo Nicola E dovrebbe esserci anche Michelle Anche se lei in effetti non la vedo Forse non è riuscita ad entrare Nicola Station Lo vorrei dire tutto Nicola Station MLG Perché l'MLG sniper Capito? Sì, c'era anche Michelle Forse non è riuscita ancora Ancora a entrare Non lo so Magari ci riuscirà Che dici? Iniziamo? Iniziamo Sì, 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 sì È una mappa di parkour Quindi so la tua felicità Nel dover saltare Mi sono dimenticata del primo salto Perché? Perché sono una persona così terribile? Allora Sì Signor Maielino si sta arrabbiando tantissimo Allora Vieni e salta guarda Perché signor Maielino non salterà al posto tuo Vieni, andiamo Ti supero pure guarda Ma cosa vuoi superare? Praticamente ragazzi Guarda come sono brava Ogni volta che arriviamo a questo cerchio giallo È il checkpoint E partiremo da lì Sono 66 mini livelli di parkour Si arriva fino all'infondo Esatto, volevo dire proprio che se moriamo Ripartiamo dall'ultimo bottone giallo Che abbiamo schiacciato Molto semplice Queste sono spine Quindi bisogna evitare pure queste Bisogna saltarle Ok, ce l'ho fatta Eccomi Nuovo checkpoint Allora qua bisogna stare attenti Perché sono piattaforme storte Guarda come te le faccio tutte di fila Eh? Hai visto? Aspetta, io sono concentratissima Io e signor Maielino siamo concentratissimi Chi è cascato? Non lo so Chi è esploda? Mi sa che era un guest classico Allora Ah ok, sì Qua non possiamo toccare questi rettangoli Se lo tocchiamo veniamo subito ammazzati È molto cattiva questa parte Ce la fai? Guarda Non lo fare tanto di fila No Uffa Sai che sto contando le morti? Sono a due Esatto Allora la prima non si conta Perché mi sono dimenticata del primo salto No, non è vero Ecco Siamo a tre Tre morti Lo stai facendo apposta? Per i nicki tre morti Lo stai facendo apposta? Stef zero Codicino Allora non ci provare Morirà di nuovo? Attenzione Ce la può fare? Oh finalmente dai Sono questi invece? Questi sono un tranello Devi saltare qua Non La parte nera Di sotto non si può Non si può toccare In realtà è nulla E tu caschi subito Oh no Allora Concentratissimi Vai Mi piace un sacco questa mappa Perché è tutta colorata È coloratissimo Esatto Mi piacciono le cose tutte colorate Mi piacciono tantissimo Oddio Oddio Questo è d'equilibrio Bisogna fare le cose in equilibrio Guest Guest Vai avanti I guest sono i terribili Ti consiglio di tenere premuto il tasto destro Perché così poi giri la telecamera È quello che sto già facendo Grazie Ed è tutto più semplice Io e il signor maialino Non abbiamo bisogno dei tuoi consigli terribili Io te l'ammazzo col maialino Guarda Non puoi Se ma il primo episodio in cui è arrivato Già non lo sopporto Te lo dico Certo Lui sopporta solo me Quindi non c'è bisogno che sia simpatico a te Sei lenta Allora ce la faccio Ce la faccio Sei lentissima Allora non ci provare a mettermi fretta Che mi fai cadere Eccomi qua Ok Questi invece obliqui così Pam pam Non c'è neanche bisogno di saltare teoricamente Però mi piace di più saltare sinceramente Vabbè solo su questi di lato Non c'è bisogno di saltare Esatto Esatto Fai lato e poi salti Lato e poi salti No togliti chiunque tu sia Ule Mi ha buttato giù L'hai visto che mi ha spinto No 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 si è caduta tu No 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 Voglio il replay Voglio il replay Muoviti La moviola Muoviti che cosa moviola Io praticamente ho saltato e lui mi ha buttato giù Non è stata colpa mia No Non è stata minimamente colpa mia Non l'ha visto nessuno sinceramente Vai muoviti va Guarda Only dietro di me dai Only Dai aspetta che gli faccio un po' di coraggio Io ti ho abbandonato Ma perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Finalmente è caduta Mommy No è caduto Mommy Mommy morto Arriva aspettami Io sto contando le morti di tutti Devo essere quello che muore meno Ecco stavo per cadere Sperando nella morte altrui Ho rischiato io Questo è difficilissimo Questo è difficilissimo Questo è super stretto Aiuto Sono lì lì che rischio di cadere da due ore Ma poi è lunghissimo Ma stai scherzando Che dura due giorni questo percorso Aiuto 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 che ansia Oh meno male Dai ce la puoi fare Piano piano Un passo alla volta Sei zitto Attenta a non scivolare Né a sinistra né a destra Attenta al tuo mister maialino Signor maialino Signor maialino Non sbagliare il nome Non sbagliare il nome Che lui è più sofisticato di te Ma quando mai E più elegante di te Ma io sono un pirata bellissimo Lui è proprio un signorino Quindi non lo devi cercare Aiuto Ma ti spingo No non ci provare Vattene 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 Vieni qua Ma io adesso casco all'ultimo Ti salto direttamente Guarda questo Guarda only che ce la fa dietro di me Questo Questo è tosto Sulle palline dobbiamo andare Palline Sono palloni giganti Palloni giganti E che cavolo Stai attenta Perché qua devi scendere un pochettino Prima di saltare Aiuto Ma se scendi troppo Cadi Quindi devi azzeccare Quando saltare Aiuto Non è semplice Questo non è semplice Questo è abbastanza complicato Ok L'ultimo Ce l'ho fatta Ok brava Quanti ce ne mancano ancora tantissimi Allora siamo Aspetta Finiamo questo Che non mi piace stare a metà Siamo al 22 Ok E dove lo vedi il numero Ah qui ok E dobbiamo farne 66 Questo che cos'è Che cos'è Allora Questo è anche abbastanza sobrio Ma quello dopo questo Allora Io te lo dico già Sarà difficile Sarà difficilissimo Aiuto Questo è terribile Perché sono piccoli piccoli cerchi Bisogna stare attenti E bisogna essere super precisi Dai che ce la fai Hai rischiato di andare oltre Vero Guardami qua Vieni Vieni Dai Ce l'ho fatta Ok Allora Questo che si fa Praticamente non devi toccare Devi riuscire a non saltare Né troppo Né troppo poco No Dimmi che ce la fai Ecco Morta al primo Ma non ce la farò mai Non ce la farò mai In questo È complicatissimo Vieni dai dai Ok No Ma l'avevo toccato L'hai visto? No l'hai preso in pieno L'hai preso proprio in pieno Non ho capito Devo prendere il rosso il pavimento Non devi toccare nulla E andare oltre Ma io avevo capito Che dovevo saltare su queste cose colorate Ma spiegami il senso Ma dai Perché era più difficile così Ma quando mai Vai Su Salta Ok Brava E allora ce la faccio L'ho fatto davanti a te Dovevi vederlo E mi sono confusa Poverino Lì è morto dietro di te Allora Qui stessa storia Non devi toccare questi I leggo colorati Esatto Chiamiamoli così Vai È difficile Stai attenta Dietro di te vai Tutti di fila Tutti di fila Yeah Adesso muore esagerando Forza Salta salta Più veloce Aiuto Adesso Olè Questo lo devi fare prima tu Secondo te bisogna No però li vedi davanti a noi Eh ma questo è ovvio Ed è un gioco che fa anche l'elementari Ma se Invece sembra che devi stare Nelle parti dove non c'è E saltare proprio quelli all'inizio Secondo me Tutto dentro Io la prima volta ci sono cascato Te lo dico Sono andato dritto È più o meno il gioco dei cerchi Che fa l'elementari Non è molto complicato Per quello Ok E questo Qui Dai è facile Ci sono dei pallini fucsia Esatto Vuol dire che in quelli non caschi Aiuto Guarda Alla nostra destra Arriva aspetta Oh mio dio Cosa sono quelle cose Dei randi giganti Che credo che dovremmo schivare Oh mio dio Ma è bellissimo Andiamo Comunque sono troppo divertenti Questi miei Vero Dove si salta Dove si fa qualcosa Anche a me piacciono un sacco Ne faremo altri Mi fanno venire un sacco di nervoso Perché io muoio spesso Però mi fanno troppo ridere Faremo di sicuro anche le moppe Dove si scappa dal barbiere Dal dentista Tutte quelle che sono bellissime Sono bellissime quelle Allora qua è difficile E quelle hanno anche cose molto più difficili Sì è vero Vorrei dire Quella del barbiere ad esempio L'ho provata è difficilissima È vero E qui Devi saltarlo Sicuro Sì Ok Ok Poi vieni qua E adesso Salti questo Ok Questo vedi inizia ad essere un po' più complicato Sì sono d'accordo Poi salti questo E ce l'abbiamo fatta Perché sei qua nel bordo Eccomi Eri in difficoltà eh Allora qui ovviamente salti su No puoi saltare sia sulla palla Che sulla cosa a lato Ah ok Quindi conviene stare direttamente sui cosi gialli Perché così salti meno Esatto Oh Le Aiuto Adesso cade Adesso casca Impossibile Guardami Guarda quanto saltella Sembra una Non mi viene Una Una Vedi Sai perché succede questo Perché anche tu non è un consigliere di insulti Quindi non avendo un consigliere di insulti Non ti vengono in mente Capito Me ne devo comprare uno No non ci provare è solo mio Cos'è questa cosa? Qua credo che non ci dobbiamo far toccare dalle palle Aiuto 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 Allora così Mi attacco tutto qui a sinistra Poi vado un po' al centro Io ti seguo Seguo la tua strada e vado dritta Olè Questa è una strada invisibile Non so chi dovrebbe fregare perché si vede benissimo Ma dimmi che non ha buchi in mezzo che magari non vediamo No 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 È dritta così Siamo arrivati ai ragni Oddio adesso che si fa? Io corro dritto Corro corro Aiuto Aspetta 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 che scendano Con calma Ho rischiato Guardami guardami adesso arrivo Io ho rischiato tantissimo E ti ho visto correre dritto Invece io e me abbiamo aspettato Ho fatto le cose con calma Così siamo sicuri di non cascare Questo è delle belle ancore Questo è difficilotto Bisogna essere precisi con i salti Mi raccomando Aiuto L'unica cosa che io non sono Precisa nei salti Lo sappiamo bene Aspetta Aiuto Sei caduto tu? Chi è che è cascato? No è caduto Nicola Solo che come è caduto davanti a me Mi ha fatto panicare Stavo per cascare anche io Capisci? Io pensavo fossi tu Ero felicissimo Invece no Antipatica Antipatica E adesso? Questo guarda Lo vedi che lui non si stava muovendo Mi sa che Ti trasporta E quindi devi fare sinistra e destra Per schivare i blocchi Capito? Vai Andiamo Allora Destra, 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 destra Sinistra, sinistra, sinistra Bellissimo Poi tutto a destra Grazie Ma è geniale questa cosa Ok È bellissimo Bravissimi Guarda la faccia di queste cose Dimmi che non è la faccia più bella Che mi hai visto nel mondo La voglio come faccia del mio personaggio È bellissimo È bellissima Allora siamo al 47 su 66 Quindi ci stiamo avvicinando alla fine Signor maialino è felice Qua ci serve un bel tempismo Corri, 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 corri Non mi hai avvisato che ci sono quelle dopo e ti stavo assicurando Sono quattro Mi sono spaventata tantissimo Poverina Mi sono spaventata tantissimo È stata schiacciata Allora una Aspetta ecco ecco Ora ne puoi fare due vai Veloce Una Aiuto Aiuto Vuole rischiare? No Non rischio mai Non rischio mai Aspetta arrivo Ce l'ho fatta Questo è difficile Questo è difficile secondo me Aiuto Precisissimi Precisissimi Olè Ok Aiuto Che succede? C'è qualcosa di interessante adesso Sono dei blocchi che si muovono Ah li devi schivare Ok Aiuto Ho capito Aiuto Ok No aspetta ok non sto capendo Allora uno Fanno dei movimenti molto strani Aiuto Attentissima vai salta adesso Ok attenta Aiuto Non so cosa mi prende È poca vita salta Aspetta vai salta 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 No Aiuto Andiamo andiamo Dai che ne mancano una decina Manca poco ormai Dai 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 Salto 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 Faccio anche un balletto Salto in giravolta salto Che bello il tuo balletto con giravolta Mi è piaciuto parecchio Mi è piaciuto parecchio Vattene Questo ci fa cascare comunque Ci fa cascare Ho un problema Che è successo? Mi sono flippato Cosa è successo? Mi ha fatto tornare a livello 30 Era il 58 Ma non è che quando muori adesso torni No ti fa tornare al checkpoint precedente Che è successo? Mi si è buggato Devo rifare tutto Non ci credo Aspetta che lo scrivo Steph È a livello 30 Com'è possibile? Sicuramente non mi ha preso un checkpoint E dall'inpoio non me ne ha contato neanche uno Capito? E quindi io ho fatto tutto senza fare i checkpoint Ti sei dimenticato di prendere qualche checkpoint? Dimenticato Probabilmente non me l'ha premuto Probabilmente ti sei dimenticato È un complotto No 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 Secondo me è solo colpa tua Io sono qua davanti Guarda la faccia che mi sono messa Armatura hai? Guarda la faccia che mi sono messa Che bellina È troppo carina Guarda che gigante così sei fighissima comunque Non vorrei dire Lo so Lo so Però lo sai che questo a livello di Robux costano tantissimo Eh sì Non l'ho preso solo per quel motivo perché mi piace tantissimo Sarei davvero fighissima vestita da cavaliere Anche a me piace Qua devo saltare il laser Sì? Ok sì Sì vai Mi metto per un attimo il dubbio Ti seguo Ti seguo Coniglietti Che bellini Ciao coniglietti La parte finale mi è piaciuta un sacco Perché poi devi salire l'albero Guarda Guarda che carino Sì lo so È bellissimo È carinissimo Come si chiama il film? Ecco che casco Non mi viene in mente C'è il film La pianta dei Il fagiolo magico Il fagiolo magico Sì ma non si chiama così Non si chiama così Perché tipo Il nome del personaggio non mi viene in mente Mommi mi sta incastrando Sono all'ultimo Che so qua è il 65 Fatemelo fare Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Vieni a vedermi Finito Finito Vieni a vedermi Sono un orsetto No è un coniglio quello Non è un orso È un orso Ti sei confusa È un coniglio È un coniglio Non scherzare È un orso Sì è un coniglio È un orso Allora Lasciami in pace Torno ad essere un cavaliere Guardami Guardala in faccia che mi metto io Ciao Voglio questo grigio Perché lo mai fai mettere Oh mio dio che schifo Ti prego Girati e guardami No la devono mettere Queste ci sono Nello top Io non lo so Se c'è ragazzi Io vi prometto Che me la compro Perché il personaggio così È troppo più bello Allora fammi vedere Voglio questa Che cosa stai prendendo Fammi vedere Ok ragazzi Ci fermiamo così Per questo video Mi son fatto bellissimo Come ti sei Conciuto È davvero Fantastico E io comunque Sono un orso No sei un coniglio No sono un orso Sei un coniglio Prima di finire il video Andiamo ovviamente A salutare gli altri I nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Asia Buffa Channel Evie Bomb TV Rainbow Matilde Vince Kawai Elisa E Elena Ciao ragazzi Grazie mille Per la condivisione Beh ragazzi Vi trovi così Se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao